. Anticipazioni Il Segreto Giugno 2018, ecco la nuova programmazione SHOCK Arrivano brutte notizie per tutti gli appassionati della soppopera Il Segreto che sono abituati a vederla nel primo pomeriggio sulla rete Ammiraglia del Biscione. . Le anticipazioni di queste ultime ore rivelano che a partire dal mese di giugno 2018 ci saranno delle novità importanti che riguardano l'orario di messa in onda quotidiano della soppopera in televisione. Per l'ennesima volta, infatti, cambierà l'orario di inizio della telenovela in tv e questa volta i fan sono molto delusi e arrabbiati. . Il nuovo orario del Segreto in estate. . Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che dal prossimo 17 giugno il game show Caduta Libera condotto da Jerry Scotti. . Andrà in pausa per il consueto stop estivo e al posto di questa trasmissione arriveranno proprio i nuovi episodi del Segreto. . Questo significa che da lunedì 18 giugno, salvo ulteriori cambiamenti di palinsesti dell'ultimo minuto, le puntate inedite del Segreto andranno in onda nella fascia oraria. . Che va dalle 18.45 alle 19.55 circa, per fare così da traino all'edizione serale del Tg5 così come è successo nelle scorse estati. . Una programmazione a dir poco shock per tutti gli spettatori del Segreto che sono abituati a seguirla nel primo pomeriggio. . I quali non hanno gradito per niente questa decisione clamorosa da parte del biscione che ancora una volta sacrificherà questo prodotto, mandandolo in un orario a dir poco insolito per una soap. . La programmazione shock del Segreto di Giugno. . . In effetti lo scorso anno gli ascolti del Segreto che hanno risentito molto in questa collocazione estiva. . La media della soap opera, infatti, è calata drasticamente arrivando addirittura ad una soglia inferiore ai 2 milioni di spettatori e appena il 10-11 di share contro il 21-22 registrato nel corso dell'anno nel primo pomeriggio su Canale 5. . . . . . Insomma un calo drastico che sicuramente si ripeterà anche quest'anno, dato che nel corso dell'attuale stagione tv del biscione. . 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